Il menù del pranzo di Natale è sempre un punto di domanda? Ci pensa Benedetta! Andiamo in cucina e facciamoli insieme! Con tante idee creative e consigli per preparare un menù di Natale semplice... Eh, buono veramente! Veloce! Secondo me farete un figurone! E di grande effetto! Non c'è niente di più bello di riunire amici e parenti intorno a una bella tavolata! Con Benedetta Rossi... Fatto in casa per voi a Natale! In Prima TV da sabato 8 dicembre alle 14.45 su Food Network, canale 33! Buone feste a tutti!